Ben ritornato Poi alla fine puoi fare tutte le stupidate che diciamo e cose Hai visto questo filmato? Si, molto bello Ti ricorda... Il filmato che abbiamo appena visto Oh che belli i zampugnari Stanno ancora in ogni water Più vecchio addirittura di me e di te Pensi a te Siamo giovani allora noi Eh sì, siamo giovani È la festa del Mantua Club Amici di Gabbiana Del settembre 1985 Sto andando al mondo campo è veramente incredibile Vediamo Una maglia rosa Eh vediamo Tu ne va... Eh vediamo In conclusione purtroppo Dobbiamo separarti Bisogna la vita Dicono Aldo, Giovanni e Giacomo Oh! Separati Eh? Uno Due tre Ben ritro... Uno Uno È un Due Tre Uno Vai Uno Due E tre Bene Ben ritrovati Siamo in conclusione Simone Sì Purtroppo Dobbiamo separarci dai nostri telespettatori Che però Li informiamo E diciamo che Il primo Io visto lui che mi guardava non c'ha Stai non guardarmi Non è cosa Sì Sì Bion L'Albec 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 Albec L'Albec Albec L'Albec Albec Buonasera a tutti Buonasera Buonasera a tutti La Simone Salvagni E Giacomo La Simone Salvagni Teniamo in compagnia le immagini delle... Adesso partiamo da qui. Tramite vecchie immagini. Ma ora possiamo... Passiamo ora al 5 settembre 1993 Dove ancora una volta il campino... Passiamo ora al filmato del 5 settembre 1993 Signora, cosa sta facendo? Guarda se lo stanno stendo che mi fanno il migliorno, eh? Allora, c'è! Oh dai, ma si guardava come una messa! Passiamo ora al filmato del 5 settembre 1993 Dove ancora una volta il campino parrocchiale diventa protagonista Infatti... Gampi! Signora, ma cosa sta facendo? Gampi! 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 Bene! Ben ritrovati in studio Siamo già pronti per il prossimo filmato, eh? Sì! Gampi! 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 Bene! Ben ritrovati in studio Siamo ancora qui, pronti per presentare il prossimo filmato! Esatto! Che riguarda delle immagini che andremo a vedere... Gampi! Ehm... Bene! Ben ritrovati in studio Siamo ancora... Dai! Ma sei lì con le labbra? Io ne conosco le tue labbra! Vado a stare per ridere! Vado a stare per ridere! Vado a stare per ridere! Non le conosco! Gampi! Ehm... Bene! Ben ritrovati in studio! Ciao! America! гявare che ho fatto la sua underno del attregg. c'è il sonore! ...ma sei lì rag, c'è nulle con la sua nearerà! Brad Forsenati è sinνηmentata... ..e la sua utapきます Proppo Champine di Marocchio!